Un consiglio regionale flash oggi all'emiciclo perché inizia su Discrani l'avventura d'assessore regionale di Mario Quagieri. La settimana politica all'emiciclo si è aperta infatti con la seduta con un solo punto all'ordine del giorno, e cioè il conferimento delle deleghe a Quagieri con la presa d'atto delle dimissioni di Guido Liris, ex assessore al bilancio, ormai al Parlamento e che ha chiuso la sua avventura politica in regione con l'approvazione del documento finanziario. Per Quagieri inizia un percorso sulla scia del predecessore con l'obiettivo di continuare a fare bene. C'è stata un'ottima collaborazione in precedenza, c'è stato un passaggio di consegne che abbiamo fatto in giunta con Guido e sicuramente la linea è tracciata, la seguiremo e se riusciremo a implementarla è meglio. Ecco, una regione che ha i conti in ordine finalmente, diceva il suo predecessore sempre, com'è la situazione? Sì, sì, sono stati approvati tutti i rendiconti, quindi si riparte da zero in maniera che si possono fare investimenti, si possono fare delle progettualità e quindi stiamo bene. C'è qualcosa a cui vorrebbe mettere mano subito? Ci sono tante cose, tante idee, vanno condivise con i colleghi e soprattutto con il Presidente, quindi faremo del nostro meglio.